Dicevo che avevamo fatto venire il bravo presentatore, ma insomma Frassica fa una caratterizzazione, ci vorrebbe invece un presentatore vero, di quelli, un grande intervistatore, uno di questi fanno i quiz e ce l'abbiamo, ma noi ce l'abbiamo 12 di tutti. Signori, Fabrizio Frizzi. Caro Gigi, buonasera. Lo vedi che non sto presentando, lo vedi? Che onore, che piacere, buonasera a tutti, grazie. Può succedere anche a me di chiamare qualcuno e di vedermelo arrivare alle spalle. Ma a te non può succedere ormai l'esperienza che ha quest'uomo, donna. Cioè, tu devi ridere come ridi sempre, le persone che sanno ridere, è proprio un riposo, grazie. Quando viene un sorriso fa sempre bene, no? Non lo stavo dicendo appunto, forse avrei sentito, e poi il vero motivo pure, perché sei qui, è quello di darmi qualche dritta, insomma, presentare, intervistare, fare quiz, per esempio, sei bravissimo, io lo seguo l'eredità. Grazie, grazie. Ecco, vedo che già abbiamo un'ambientazione che ci aiuta, è vero, a entrare in un contesto. E tu dici di tutto, te l'ho detto, fine, eccolo qua. Seppure la sigla, come senti, ecco, sarebbe bello se ci fosse, per sentirmi un po' anche in famiglia, per aiutarti in questa direzione, qualcuno che ricordassi il ruolo delle professoresse. Beh, magari. Signore e signori. Le professoresse. Buonasera, 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 buonasera. Ludovica Caramist, Francesca Fichera, Eleonora Cortini, così te lo... Vuoi ridire i nomi, perché, insomma, eh, eh. Eleonora Cortini, da sinistra verso destra. Buonasera. Brava. Francesca Fichera. Buonasera. Ludovica Caramist. Bravissima, brava. Grazie, grazie, grazie tanto. Beh, adesso che manca? È che manca, manca qualcosa, qualcosa di molto importante, perché, insomma, almeno un concorrente ci vuole, altrimenti io le domande, a chi le faccio? Beh, lo troviamo. Eh. Ma che volevo fare io? Il concorrente, ma no. Eh, non lo so, sei pronto? Te la senti? Proviamo, io ne so. Proviamo, allora, adesso abbiamo il concorrente, possiamo iniziare con la presentazione, prego. Luigi Proietti, nato nei dintorni di Roma. Ma, che dintorni? Io sono da Roma, che dintorni? Mica, sono burino. Era il secolo dei lumi, delle scoperte scientifiche. Correva l'anno 1785. Ammazza, mica, non me lo ricordavo. Salti in banco e fantasista. In gioventù, contorsionista acrobatico. Attività che ancora oggi svolge nel tempo libero. Mi sa che avete sbagliato scheda, ragazzi. Per essere la scheda di mio cugino, che uno fa sempre in palestra. Vedi, Gigi, però, anche se qualcosa non va, come in questo caso nella presentazione, il conduttore deve andare avanti, dando una sensazione di fiducia, di serenità, capito? Tipo, e adesso che abbiamo apprezzato la scheda del nostro concorrente, possiamo iniziare. Sì. Va bene? Benissimo. Ecco. L'espressione è sorridente inizialmente, capito? Adesso possiamo incominciare. Allora, via. Perfetta per l'inizio, per alcuni passaggi del gioco, ma quando devi fare le domande, l'espressione deve cambiare. Sì. Diventa... Non è più così. Diventa seria. Diventa impassibile. Diventa incorruttibile. Un po' troppo? Un po' troppo. Un po' incorruttibile, ragazzi. No, 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 non è che viene... No, questa non la possiamo fare. Non si può fare, va bene. E allora possiamo procedere con le domande. Sei pronto? Pronti. Bene. Sono domande vere, fatte nel corso delle nostre puntate dell'eredità. Ah, vere sono? Vere. Sono state fatte ai concorrenti. Ma le domande, va bene, ma le risposte pure sono quelle vere? Sono le risposte vere che i concorrenti hanno dato con molta fantasia, proprio con creatività pura. Sì. Cominciamo. Lo scorso anno il lungomare di Perugia è stato premiato con la bandiera blu. Vero o falso? Vero. Ma questo ha risposto vero. Ma che hanno risposto vero. E quindi se tu vuoi l'anno prossimo possiamo fare la vacanza insieme sul lungomare di Perugia. Ma questo non era Umbro questo qua perché è un lungomare di Perugia insomma. Era Umbro e era molto emozionato. Ora rifletti bene. Sì. Gli hanno gli adolescenti, comincia con la B. Bolluri. Bolluri. Io ce l'avevo. Era Brufoli. Era Brufoli. Ma pure i Bolluri. E poi a Bolluri. Eh non lo so. Ora per la serie quanti sono? Sì. Devi dirmi quante sono le ruote di un triciclo? Quattro. Come quattro? Tu hai un triciclo con quattro ruote? La ruota è scorta. Stagionevole metti. Metti i buchi con il triciclo. Metti là e fai. Ma sono vere queste risposte? Vere. Risposte vere. Date davanti a tutti noi. Attenzione. Questo è difficile. Il verso della pecora. Sei lettere. Inizia con la B. Beh... Non mi fa così a vero. Sarebbe stato belato. Però... Beh belato. Ma il belato è questo insomma. Però c'aveva ragione sto poraccio. Cioè a modo suo c'aveva ragione. E poi... Per la serie che lavoro fa? Che lavoro fa Giuseppe Tornatore? Il Fabbro. È vero. L'hanno detto sul serio. Incredibile. Beh a modo suo lo fa ma con le immagini. Attenzione. Ultima domanda. Sembra facile eh? Sì. Il nuovo nome di Formosa inizia con la T. Tettuna. Ma è possibile. Sarebbe stato Taiwan. Ma va bene così. Grande concorrente. Grande. Grazie. 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 A me sembra più un'interrogazione da scuola. E beh. E beh. E qui c'è così. Ma sai quelli a me c'è una piccola barzellettina. Posso venire in mezzo a voi? Certo. Mi fa piacere il benedetto fra le donne. E c'è questo professore che dice un po' militaresco. Fai cosa stacca con la giuria. Dunque ragazzo sei preparato? Sì sì. Allora una domandina di fisica. Ma molto semplice. A quanti gradi bolle l'acqua? A quanti gradi bolle l'acqua? Mi sembra di essere stato chiaro Giovanotto. Non mi fa ripetere. A quanti gradi bolle l'acqua? Dunque l'acqua bolle l'acqua bolle. A quanti gradi bolle? Ho detto bolle Giovanotto. Bolle l'acqua bolle. A 90 gradi bolle l'acqua. Dunque tu adesso a me hai detto a me tu che l'acqua bolle. E' vero, tu mi hai detto a me che l'acqua bolle a 90 gradi bolle l'angolo retto. Fabrizio adesso abbiamo un po' scherzato. Che meraviglia ragazzi. Fammi ristacco a mezzo, mi sento più protetto. No, abbiamo un po' scherzato, però Fabrizio adesso ci fa un suo cavallo di battaglia, quello vero. Poi lo sapete tutti, ma lui canta, recita, ma lo fa con molta cautela, non so come dire, forse. Un po' nascosto. Un po' nascosto. Però canta benissimo, recita benissimo. Troppo carino, grazie. Beh, la settimana scorsa lui ha fatto lo splendido genio da Aladdin. Quindi è una prova straordinaria. Io nel mio piccolo, sempre dal mondo Disney, che in qualche modo ci rende fratelli, vi porto un cavallo di battaglia di un personaggio da Toy Story, che ho avuto il piacere e l'onore di doppiare, che tra l'altro con i cavalli ha a che fare, perché è un cowboy. Il cowboy Woody. Vai, vai. Andiamo a te lo sentirei. Grazie. Sei il mio vice scerifo preferito. Hai un amico in me, un grande amico in me. Se la strada non è dritta e ci sono duemila pericoli, ti basti solo ricordare che c'è un grande amico in me. Di più di un amico in me. Hai un amico in me, più di un amico in me. I tuoi problemi sono anche i miei, e non c'è nulla che io non farei per te. Se stiamo uniti scoprirai che c'è un vero amico in me. Più di un amico in me. E anche se in giro c'è qualcun altro che vale più di me. Ma più certo, sicuro mai nessuno mi vorrà mai bene. Quando mi sai, con gli anni capirai che siamo fratelli ormai. Perché il destino ha deciso che... 3, 4... C'è un vero amico in me, c'è un vero amico in me. E un amico in me, un vero amico in me. Sei il mio vice scerifo preferito. Eccezionale!